Sono a Bologna e nel qualche giorno si stanno verificando degli episodi molto sgradevoli di marginazione nei confronti della comunità cinese. Questo dovuto alla stupidità e la psicosi dilagante del coronavirus. Ho deciso quindi oggi di andare a trovare alcuni cinesi e di chiedere loro un bacino per farvi capire che non c'è alcun pericolo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.